ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata finalmente siamo in grado di fare un nuovo un nuovo video siamo qui tra amici c'è Alessio c'è Rossano allora io sono appena rientrato dal Giappone Alessio e Rossano mi hanno chiesto un parere su quale orologio comprare proprio lì visto che ero lì in zona visto che ero in Giappone e io insomma li ho fatto un l'ho consigliati ecco gli orologi sono diciamo qui questo è il pacchetto sono due seiko e quindi per la prima volta li aprono quindi insomma apriteli ecco va bene allora procediamo ci vuole anche un po' di sono i libretti sono spellicolati eh non entriamo troppo ora nell'area ormai anche loro hanno preso il bio e via eh sì ma penso sia tutto il mondo che si perde lasciamo perdere le motivazioni fanno parte del fanno parte della collezione secco five sports come questo qui via questo è naturalmente 42 mm la casa slim e quella lì è la mid size direi che ci siamo l'orologio è come ti dirò per il prezzo che costa secondo il mio punto di vista è anche insomma parliamoci chiaro l'abbiamo pagato una cifra di meno si compra il muse watch e costa di più effettivamente insomma non è anche da paragonarlo no 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 sì direi che mi piace ora poi dopo ve lo metto direi che mi piace si confermo si confermo bello 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 e questa qui è una cassa che è la mid size che ha origini si si anche la corona la corona la gira bene eh si si gli scatti si sentono bene direi anche preciso si 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 posso questo qui praticamente è l'origine di quella cassa lì ah ho capito si questo qui è un orologio degli anni degli anni ottanta il nome che aveva il fondello chiuso perché qui c'è una pellicolina c'è ancora guarda si è qualcosa nascono lì qualcosa è sfuggito questo a me si è un bel oggetto un pezzo che ha è un bel oggetto allora lo facciamo vedere da vicino appunto sono i nuovi Seiko 5 sports mid size quindi questi sono usciti l'altro mese naturalmente si trovano a pacchi in Italia e questo naturalmente c'ha una particolarità per avere il datario in canci si diciamo che è stato quello per cui ti abbiamo caricato alla fine se volevamo appunto come hai detto poc'anzi in Italia ci non davano di questi modelli ecco e tra l'altro in Italia si trova anche il verde si cosa che in Giappone non si trova è finita è finita no no qua si trovano bello direi che ti dirò mi ha colpito maggiormente a prenderlo in mano perché non sembra ma prenderlo in mano da l'idea di robustezza no no per il prezzo che stavo pagato e poi voglio sottolineare una cosa io ho il Tartle appunto che te mi prendesti nel 4 anni fa io dico che i quadranti li hanno migliorati c'è stato un netto miglioramento dei quadranti e non è poco un netto miglioramento cioè si parla di due orologi entry level no? sia il il Tartle che mi portasti e questo qui se ci soffermiamo un attimino sulla su come hanno diciamo rimesso rifatto quel quadrante anche se prendiamo appunto quello degli anni se vogliamo paragonarlo a quello degli anni diciamo 80 questo era già un quadrante se vogliamo è ben rifinito se prendiamo addirittura sembra anche ben allineato rispetto a quel che era il il Tartle il Tartle che mi portasti aveva aveva il difetto che hanno tanti Tartle era è disallineato vivemente quindi qui invece sembra che siamo ritornati a una lavorazione diciamo più certosina ecco la definisco così anche se poi alla fine una dovrebbe essere una lavorazione più visto che lo fanno in Giappone più definita ecco da un certo punto di vista insomma il quadrante penso sia la parte nevralgica dal punto di vista della lavorazione sì non posso dire non posso dire che il motivo per cui quello si pare meglio realizzato sia il fatto che sia made in Japan perché perché era made in Japan anche quello anche quello lì che hai comprato era made in Japan per cui cioè non so può darsi che siano realizzati in maniera cioè che siano fatti che siano fatti meglio ora questi questi orologi secondo me per certi versi e non è una e non sarebbe una novità sono questo qui appunto era il 6458 vediamo anche quello di Rossano si è allineato ma penso proprio di sì sì ci vedo no no ma che l'allinamento è buono sì 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 tanto quindi no per l'altro è un quadrante nemmeno bianco tipo panna sì 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 anche il suo mi sembra ben allineato ecco sì 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 ora tra tutti questi qui questo 6458 quando uscì che è questo qui è quello diciamo così forse meglio realizzato al di là che è un quarzo sì è molto bello perché appunto era un orologio destinato soltanto al Giappone cioè al mercato giapponese e quindi doveva combattere diciamo così gli svizzeri sul mercato giapponese cioè dove il mercato diciamo gli orologi svizzeri erano molto presenti per cui c'era un'attenzione un'attenzione particolare successivamente poi arriva anche questo che anche questo qui è un mid-size è il perpetual calendar questo qua questo che potete vedere se mi riuscisse metterlo a fuoco cosa che è così a fuoco dai esatto è abbastanza bello anche questo qui è un questo orologio qui c'è stato soltanto per il mercato giapponese quindi non è mai stato replicato per l'europa o per il resto del mondo mentre invece il 6458 poi dopo ne viene realizzato un nuovo modello che poi dopo va per tutto il mondo ok questo quadriante opaco questo nero tipo opaco sì bello e poi c'è quella scritta rossa di particolare e in realtà ora e questo qui di che anno è? perché è recente anche questo questo qui siamo già negli anni novanta ah ecco 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 questo se guardiamo il quadriante rispetto a questo qui è meno rifinito sì anche i primi indici luminescenti appunto qui sono già contornati cioè hanno un'alta rifinitura rispetto a questo qui no? eppure insomma è mid size anche questo ora c'ha un sicuramente un movimento più interessante perché è un calendario perpetuo quindi alla fine sì un movimento interessante anche se è un quarzone ma insomma sì è un quarzo mi sembra un quadrante più è un quarzo però questo qui è un è una specie di termocompensazione c'ha ah ok quindi questo qui è un orologio intanto che c'ha dieci anni tipo di cioè non devi sostituire la batteria c'ha una batteria molto grossa è una batteria tampone praticamente dietro sì e quindi non è solo un calendario perpetuo ma ha anche doti diciamo di grande di grande precisione considerate che questi orologi qua venivano le stesse cifre sì sì cioè sono gli orologi che venivano su quella fascia di mercato lì sì quindi intorno alle 300 400 milioni a lire eh oh si ha portato un euro sì più o meno i nostri stipendi sono rimasti quelli ma il prodotto era doppiato sì comunque no ma 200 300 euro più o meno ecco la quello che era la fascia la fascia di mercato ora comunque poi dopo naturalmente lo proverete però io vi dico questo che poi naturalmente ognuno deve fare le sue le sue prove il la la cassa slim eh ora se lo ritrovo cioè quello con il quadrante arancione che c'avevo non so che fine ha fatto ora è andata fin quello rosa quello della cosa della diciamo qui sotto comunque il Seiko 5 Sports è andata fin era io ce l'avevo mano prima l'avevo fatto vedere non lo avevo messo io ah eccolo qui questo questo qui io vi posso dire che con cinturino in con il bracciale in metallo insomma diventa un orologio io non dico indossabile va bene però un abbastanza pesante mentre invece secondo me comunque in questa configurazione qui come ci vedete voi va accorgerete che il peso non è non è eccessivo anche con anche con bracciale che la cassa è pesante eh questo diventa troppo secondo me infatti io l'ho messo con cinturino in gomma questo qua secondo me lo cioè lo riuscite a sfruttare anche con il bracciale in metallo secondo me questo è un orologio che potrebbe essere sfruttato anche dalle da comunque dalle femmine eh alla fine è bellino anche per una femmina una femmina con un polso diciamo sì non troppo non troppo piccolo perché ha l'idea davvero dell'orologio degli anni 80 si sta a vedere eh sì perché di fatto era era quello degli anni 80 ma eh se si guarda il Rolex semmo 34 millimetri a prendere in considerazione davvero è bellino cioè è bellino comunque parliamo in soldoni cioè in Giappone perché in Italia le Fiat costano più che negli altri paesi no questo è in Giappone questo l'abbiamo pagato lo possiamo dire quanto sì sì l'abbiamo pagato 190 euro e in Italia questo qui viene credo 350 se mi sbaglio poi allora l'abbiamo pagato 190 perché avevamo l'abbiamo presa Big Camera e abbiamo preso eh uno sconto ulteriore che dava quel mese lì anche Big Camera sì sì un ulteriore 15% abbiamo beccato secondo me il quadrante bianco non è nemmeno male perché i Diver con il quadrante bianco secondo me ci sono tantissime quell'acqua marina che appunto tutti corrono verso quell'acqua marina lì mi lascia un po' sempre perplesso perché è un colore un po' sì va bene ora perché ora c'è tutto quel lancio lì tiffani non tiffani c'è destino sì oppure come lo chiamano tutti turchese se no dopo qualcuno risalta fuori io parlo di col tiffani tiffani è tiffani turchese vabbè se non c'è scritto sul quadrante tiffani è un colore che fra qualche anno andrà invece il bianco è bianco si nero è nero poi Diver sul bianco sul Diver non è mai un colore comune non è comunissimo in realtà io secondo me lo fanno quasi tutti però non è comune da vederci io secondo me questo qui è uno di quelli orologi che uno si ritrova sempre al polso e non si sa e non si sa come mai questo questo è questo è secondo cioè la mia la mia esperienza te che sei esperto in Seiko c'è la possibilità di metterci un cinturino in gomma Seiko allora questo qui sì sicuramente sì c'è un sicuramente si può trovare un flat tipo questo credo eh tipo questo qui ok però di queste dimensioni allora ti diventa ancora più ancora più leggero però io vi dico cioè diciamo è un aftermarket diciamo ecco sì una cosa un po' diciamo così perché riprende un po' questo cioè questo usciva è il suo originale questo usciva con la sua sì e questo è un però io vi dico io vi dico anche la mia secondo me conviene secondo me conviene sfruttarlo più così perché quello nasce cioè capito così è come questo cioè questo nasceva così e e il subello è è quello è come un sì anche il submariner lo puoi levare a bracciale però non è il submariner è legato a quel bracciale è ricordato il bracciale poi ci puoi mettere anche un autostrap che puoi prendere tutto voglio dire ognuno lo può portare come gli pare certo 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 però cioè se voi guardate ecco come eh se voi guardate anche come è rifinito questo eh questo bracciale questo bracciale qui è rifinito meglio di questo cioè io sì sì e e cioè parliamo di errori economici sì comunque ci sono Manuel Maggioli ha girato una eh le maglie piatte un video su Instagram diciamo dove un un sub faceva immersioni con questo eh un Seiko 5 Sports 100 metri ok immersioni voglio dire 100 metri di immersione voglio di immergere è che comunque parliamoci chiaro cioè questo infatti c'è pure il bagno ragazzi eh sì 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 però al di là di tutto sì per fare il bagno va bene ma per fare le immersioni ormai vanno tutti occompiute parliamoci chiaro no vabbè un'immersione sportiva immersione così diciamo diciamo da apneista da apneista ma da 20 metri che già non è poco esatto perché già a 30 metri è buio eh ma è molto buio è 30 metri è molto buio di atmosfera e quindi e quindi secondo me cioè però secondo me questo è un orologio che cioè d'estate lo sfruttate andate al mare la sera è elegante col bracciale in metallo perché io col bracciale in metallo lo vedo più gli orologi li vedo più eleganti ok e cioè e la mattina dopo lo usate e ci andate al mare e non lo levate mai quindi secondo me è un orologio riuscito riuscito per quello mi sono sentito di consigliare poi è anche vero che ora facciamo un ragionamento sull'aspetto profano della questione oggi Seiko come tutti i brand hanno aumentato tutto il tiro sono andati tutti a cifre che se ne parlava giusto io e Rossano penso due giorni fa e insomma accostarsi al mondo dell'orologeria oggi è sempre più difficile anche sia per i brand blasonati ma anche per i brand blasonati perché ti metti a comprare un orologio si va su oltre mille euro qualsiasi tipo sia che sia cioè però io sì sì anche pre covid sotto i mille euro cominciavamo a comprare tanta roba diciamo dico tanta roba tanti entry level che comunque anche roba interessante ora è meno di mille pass euro mille e cinque in su non trovi nulla di roba adesso si va facilmente sopra i 2.000 euro se non ci sono visti anche vedi tanto qualche marchio si può dire no? beh voglio te orologi calamari per esempio qualcuno ci mette anche i meccanici veneziani ma anche quelli recentemente calamari ma sono belli gli orologi calamari non c'ho ancora no ma ha chiamato quando ero quando ero in giappone per cui non ho avuto la possibilità neanche di parlarci comunque presto insomma ci faccio così una chiacchierata si intanto lui è disponibile però io ti dico una cosa vi dico io sono non sono tanto d'accordo con quello che dite nel senso che se parliamo di orologeria svizzera sono d'accordo però secondo me i giapponesi hanno fatto qualcosa di diverso perché quello che vedete qui è la prova plastica che effettivamente i prezzi per Seiko non sono non sono aumentati cioè quello quello che è aumentata secondo me è la copertura che Seiko sta dando a tutti in tutte le fasce di prezzo allora è vero sì che per esempio Gran Seiko è aumentato di prezzo io sono stato la diciamo con meno di 5.000 euro a parte quarsi che comunque sono quarsi di altissimo livello quindi tolti quelli tolto lo sprint drive che a me piace tantissimo però sono nell'orologeria tradizionale e quindi un purista lo sprint drive lo vede sempre come un orologio che non è nel carne e nel pesce alla fine perché è un orologio elettromeccanico perché tutto quello è ma è un orologio da sfruttare però è elettromeccanico no? sì come io per esempio sfrutto un G-Shock cioè quando esco per di moto no? quello lì è un orologio secondo me che è bello da sfruttare cioè ha una precisione del quarzo però ha un movimento che non ha bisogno di batteria quindi è il massimo della tecnologia però non è secondo me un orologio che è collezionabile nel senso puro del termine perché comunque se smettano di fare quella componente lì l'orologio è fermo se ti si rompe fra vent'anni quella componente e poi l'orologio è fermo cioè io ho dei Seiko al quarzo con movimenti che non si trovano più e quelli lì sono finiti cioè ci monti qualcos'altro dentro o se no quindi nel senso te però quelli che hai sono tutti funzionanti sono tutti funzionanti però per esempio ho un ho qualche Seiko degli anni 80 che magari non scatta la data hai capito? si ma sui qualsi sui qualsi quelli non scatta la data non è nemmeno riparabile cioè va sostituito proprio la vuota si ma lì cioè non è riparabile uno o cambia il movimento però il movimento non lo fai più o poi ci metti un altro movimento che magari si trova però a quel punto lì non c'è più quel movimento lì di quella cosa quindi è chiaro che è sempre comunque sia collezionabile cioè te c'hai un pezzo è originale va bene no? però un orologio meccanico tradizionale secondo me è quello quello meno io non dico che è meglio però è quello che io che faccio che che colleziono gli orologi si abbina meglio al mio modo di vedere l'orologio però il sprint drive è il massimo cioè della tecnologia oggi come voglia cioè se io avessi non fossi un collezionista di orologi ma fossi uno che utilizza l'orologio e basta io sicuramente lo comprerei cioè perché è un orologio che in questo momento qui rappresenta il massimo della tecnologia quindi uno che vuole un bello orologio quello potrebbe essere uno dei sarebbe bellissimo un orologio unico soprattutto fanno dei quadranti grazie a lui i quadranti sono spettacolari hanno delle lavorazioni eccezionali si perché per dire i Rolex bellissima marca è tutto però sui quadranti si fa dei quadranti semplici non è che faccia roba cioè prendiamo il Z-Master dell'Omega che costa la metà di un Submariner cioè Z-Master ha un quadriante molto più lavorato molto più bello di un Submariner si però anche molto più carico e si però la lavorazione la paghi di più cioè invertiamo le parti mettiamo la lavorazione del Z-Master su quella ce la farebbero pagare tre volte di più probabilmente tre volte di più mai no però lo pagheresti tranquillamente 3.000 euro di più penso sia abbastanza normale sì ma sai Rolex è molto classico cioè quindi per trovare infatti quei pochi orologi che un po' si distinguono che che so io qualche tempo fa venne fuori un day just con il quadrante tipo palma com'era? sì c'è ancora in produzione ora c'è quello un pallone che abbiamo messo le palle esatto sì quando quando escono quelli lì no sono subito i collezionisti perché normalmente insomma Rolex è molto conservativo sì ora si dato fuori sì c'erano negli anni che era 60 70 quelli in pietra dura sul Dejust credo forse anche sugli Oyster Perpetua insomma è pietra dura però sì non è che si ma lo usa ancora la Fragranite eh cosiddetta Fragranite penso sì ma non con quelle color con tutte quelle colorazioni che c'erano a volte sì non con tutte quelle colorazioni no ma i colori ce l'ha sempre avuti però in generale i modelli che sono andati no i colori pastello sono tanti anni no che le usa però dico o sono tutti quel colore o sono tutti sì non è che ci sono delle varianti quello per dire il Submariner con la scritta rossa ha diventato un pezzo no molto collezionabile sì che costa un mucchio di soldi insomma e quindi e quindi sì e comunque Rolex è una grande una grande azienda non c'è niente da dire no ora scusate la tiravo fuori l'ultima io dico l'ultimo eh diciamo che era l'ultima cosa che poteva tirare fuori questo centenario della della di Le Mans ha tirato fuori questo Daytona che ha fatto un misto frutta dico io nel senso ha ripreso il quadrante Newman cioè quindi il quadrante Panda invertito nero contatori bianchi e l'ha messo sul nuovo modello quindi il 126 500 e quindi i nuovi Daytona che tra l'altro vorrei dire una cosa no? che per ora nessuno li ha preso in mano almeno in Italia io non ho visto nessun youtuber che ha preso in mano un nuovo anche perché è scala settembre ho visto dei dei canali esteri qualcuno insomma però ho visto già un paragone il Panda diciamo precedente il 165 il 126 500 lo visti paragonati ho visto una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso di tutte quelle che sono viste la ghiera è molto più importante o scaolunetta come la chiama Rolex usiamo il termine Rolex perché sennò c'è qualcuno dopo viene a dire che si usano te le minore insomma no no ma ghiera va bene va bene va bene era lunetta non girevo no ma se andiamo sul sito Rotterdam c'è scritto lunetta allora usiamo lunetta lunetta quindi è è molto meno importante è vero che l'hanno protetta con quel con quell'anello diciamo d'acciaio intorno però è molto meno importante rispetto al vecchio e lì non lo so se la strategia perché secondo me e ora faccio un discorso che non ho mai non ho sentito fare secondo me il zoomare il GMT si distinguevano nella lunetta ceramica appunto perché era era un inserto in ceramica mentre il Letona aveva questa lunetta grande in ceramica e faceva più effetto però io l'ho provato cioè io l'ho avuto quindi insomma lo posso dire l'ho avuto e ce l'ho posso dire e affermare che ha perso questa caratteristica cioè il Letona è andato verso il GMT e il zoomare cioè è diventato un inserto anche nel nuovo modello secondo me è molto meno importante quindi questa è una caratteristica che non lo so se piacerà o meno a chi il quadri avanti del vecchio è molto più bello del Letona nuovo quindi ci sono queste cose come l'orologio deve essere bello tutto movimento eccetera però anche l'occhio vuole la sua parte il quadrante è la prima cosa che va a impattare l'occhio e lì andrà visto un attimino come lo prenderà il collezionista il purista il critico ecco perché poi anche chi non ce l'ha comunque critica e giustamente critica positiva o negativa solitamente questo storicamente poi bisogna naturalmente vedere caso per caso però solitamente quando c'è il Daytona quando esce il nuovo Daytona lasciamo stare quelli che sono i restyling insomma no ma quando ci sono veramente questi cambi e in questo caso qui c'è il cambio perché cambia anche il movimento certo sì e solitamente il primo anno rimane il mercato rimane interdetto anzi si rivalutano i vecchi sembra quasi che uno dice no ma era meglio il vecchio e si rivalutano quasi di più quelli poi invece col passare Daytona chiaramente è sempre stato un grande successo cioè proprio l'unico che non ha avuto successo è proprio il Paul Newman nel senso quelle versioni ma perché era un orologio anacronistico nel senso che era un orologio che aveva solo la ricarica manuale quando gli altri avevano già la ricarica automatica cioè era un orologio che era indietro anche se poi era un Val Giù 72 quello che vuoi cioè nel senso comunque un movimento di pregio ma era un orologio che soffriva no il tempo e l'evoluzione e comunque sia tutti gli altri dopo hanno avuto un incredibile successo ma il primo anno è sempre un anno è capito perché probabilmente il collezionista Rolex è un tradizionalista si si non digerisce no le novità ma il primo impatto non le digerisce si ora c'è da dire una cosa tiriamo fuori una cosa che potete fare un video lungo stasera ed ecco rivalutazione ma oggi con i nuovi modelli noi siamo passati ti luogo qualche minuto si si siamo andati da seco come al solito Rolex ma anche perché poi si si intersecano no queste due case alla fine allora qui si apre una parentesi come i nuovi modelli Rolex pare che si sia avvertita la tendenza cioè i nuovi modelli costano di più delle rivalutazioni dei vecchi e questo ormai negli ultimi anni è un dato di fatto no? però però ora è successa una cosa che è successo che durante il covid i pezzi non giravano e quindi il prezzo lo faceva brutto da dirsi il cliente e non lo faceva il commerciante perché il commerciante essendo essendoci penuria di pezzi chiamava quanto è questo? ma quanto quanto te quanto vorresti ora invece la rotta si è avvertita cioè io un settimana però ecco spiegate meglio nel momento in cui ti vendi allora io un settimana siccome ogni tanto mi piace rifare il giro dei soliti venditori ma anche per avere un'idea no? perché come si dice quando uno ha un prezzo di valore in mano sapere quanto vale come è giusto visto anche che ora cala io del miletone ho fatto un po' di giri ho sentito uno che mi dà 20 un altro 23 cioè c'è una secondo me c'è anche una differenza anche da zona a zona cambia no? perché è chiaro che se io chiamo un venditore di Milano due o tre mila euro di più me le dà se chiamo un venditore di di Fiombino di Fiombino è chiaro che magari è più facile mi dia tre mila euro o meno ma perché? perché quel pezzo lì mi costa lì del tempo quindi in settimana siccome ho riscontrato quella differenza lì proprio fresca e tra l'altro ci siamo anche meravigliati ho detto uno un reseller famoso mi dava tre mila euro di più di un altro meno famoso ma con questo non è che voglio screditare il lavoro di uno però è un momento questo qui che il mercato è cioè bisogna stare molto attenti a quello che uno vuole fare in questo momento non si dovrebbe vendere niente perché vendere qualcosa ora sicuramente si perde denaro e poi con la rivalutazione appunto del Daytona che come hai detto prima te si rivaluta in questo momento no dico io perché una volta era come dici te ora in questo momento invece è tutto fermo cioè stanno attendendo quanto uscirà il modello nuovo sul mercato per capire i passi che farà quello vecchio andandoli dietro perché se prendo ad esempio il GMT sprite no anche se di sprite non c'è niente perché il colore della sprite a casa mia è giallo e verde giallo tendente insomma giallo acceso e qui è giallo e verde insomma anche lì sulla sprite si potrebbe partire un dibattio ma quello lasciamolo a un altro video però la sprite era partita da 65 mila euro se ci ricordiamo piano piano e ora siamo 20 22 19 e mezzo insomma è a livello di un pepsi diciamo così come prezzi il leitona se uscirà a 65 mila non credo che in un anno vada a fine a 20 mila perché vorrebbe di che il leitona che avevamo noi tra un anno andrà a fine a 10 mila euro ma perché a 65 mila cioè lo sprite era uscito quello lì particolare però dico il leitona nuovo non è grabata nessuno bisognerà vedere se andrà anche quello a finire da Eriselle oppure no quello sicuramente cioè il leitona è sempre stato io ho iniziato la passione nel 2003 andavamo dal concessionario è sempre stato l'ologio che non l'hanno mai dato e se lo davano ecco lì in quel momento che non c'era questo giro di mercato qualcuno dopo un anno e mezzo magari cliente lo aveva in tempi non sospetti ora leitona e non ce l'hai ma non ce l'hai perché non lo avevi nel momento che difficile durante il covid figuriamoci se lo hai se lo hai adesso perché ho tutto uscito il modello nuovo quindi insomma i pezzi erano ancora meno diciamo che la rolex abbia aperto la produzione che poi anche qui ha aperto la produzione su cosa su tudor o su rolex perché non è che la rolex specifica su quali stabilimenti produrre di più no ma bisognerà vedere però io secondo me vuole vendere più tudor che rolex perché però comunque io prevedo una flessione dopo di che che non li daranno con le patatine nei soliti discorsi è chiaro però ora insomma secondo me soldi da buttare nell'orologeria ci nemmeno in generale insomma la gente ha cominciato anche a viaggiare io comincio a vedere gli aeroporti poi costano di più cioè costano di più ma poi la gente insomma ora comincerà a comprare anche altre cose vestiti vanno visto anche noi uscire al ristorante uscire accrestando nell'orologeria secondo me tendenzialmente la gente compra più anche altri insomma si arriva la tendenza che compra un po' più anche altre macchie che quella è la cosa giusta eh si 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 è la cosa giusta cioè comprare solamente una monomarca perché se si stabile 8 mesi fa uno andava da resellere e vedeva e vedeva 30 rolex e due modelli lì fermi il sa di cosa ora è ritornata alla ribalta ai bussi e oltretutto dei numeri importanti anche a livello di fatturato penso che sia stata una tra quelle case più diciamo che vendono meno di rolex una tra quelle più che ha riscontrato maggior numeri a livello di vendite quindi fatturato erano contenti ho sentito e poi ritornerà in voga a Panerai insomma alla fine anche Panerai ha la sua fetta di mercato cioè tutto quello che era in voga all'inizio del 2000 io secondo me ritornerà piano piano Jagd e Kult tutti questi marchi che Cartier sta tornando Cartier piano piano quindi tutti questi marchi che erano diciamo dormienti dormienti oppure messi un attimino da parte perché comunque l'orologeria come tutte le altre cose è ciclica no? e quindi sono stati fagocitati da quella da questa speculazione su rolex chi c'aveva soldi li buttava lì perché sperava in una rivalutazione insomma sì ma lì è come tutti io cito il metodo Ponzi no? cioè lì è chiaro che chi è ultima riva rimane col col cerino a mano si dice nel senso chi arriva prima e li riesce a venire non conto se te tieni 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 prima quando scoppia tutto e va giù e che praticamente ma io infatti cioè poi ci posso prendere ci posso non prendere però la mia idea è che vada giù e andrà giù tra io parlo del vecchio da Etona andrà giù quando entrerà in produzione dopo qualche anno che entrerà in produzione il nuovo questa è la mia previsione quindi ci vorrà sempre due tre anni o quattro però questa è la mia questa è la mia idea cioè nel senso che piano piano quando entrerà il nuovo ora è visto un po' con sono tutti un po' scettici no? su quello che sarà e poi dopo ci sarà quello che lo prova dirà no ma effettivamente questo mezzo millimetro è migliorativo e quindi poi alla fine sfonderà e tutti vorranno il nuovo allora questo non vuol dire che il vecchio va a zero eh no 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 assolutamente no però oggi cioè secondo me oggi è un po' il canto del cigno del vecchio ora eh io la vedo così ma io invece qui ti devo ti devo fermare perché a differenza di anni passati i listini erano più diciamo avevano queste questi ritocchi di listini più lenti oggi invece si vedono molto frequentemente il mio punto di vista è che il prezzo del Daytona era tra i 20 e i 22 mila euro il prezzo che andrà al Daytona scusami quindi io credo che tra sei sette anni vedremo questo Daytona qui che è uscito ora tra i 20 e i 22 mila euro come il listino quindi è chiaro che gente che ha preso il Daytona vecchio quella cifra lì quella cifra lì sarà quella perché poi che succede che il listino sarà quello ma il Daytona se lo vuoi costerà ah boh 35, 36, 37, 38 e quello vecchio starà comunque lì 30, 32, 33 quindi ma sostanzialmente farà più o meno come ha fatto la versione precedente si il Crovalight il Crovalight no? secondo me il Daytona deve uscire deve essere un orologio come io ho detto anche in passato non per tutti cioè deve essere un orologio che la Rolex lo tiene per il cliente veramente importante chiaramente poi uno se lo vuole lo va a comprare nel mercato parallelo alle cifre che sono ma io faccio un esempio stupido quando ci voleva io quando l'ho comprato ci voleva due orologi no? due Rolex ora ce ne vuole quasi tre se uno fa un cambio in proporzione quindi si sta andando verso un orologio che si disposa a comprare si ma non vuole mettere soldi bene cambia tre Rolex per uno si va è questo il rapporto tre Rolex perché poi un conto è comprarlo un conto è vendere per arrivare a quello e le valutazioni sono differenti ora c'è molta più differenza da quanto ti danno rispetto a quanto vendono eh prima c'era molto corta la forbice mi ricordo ti ricordi bene io sono arrivato 1000-1500 la differenza quindi che andava via subito perché girava un po' come al supermercato no? si si girava tanto al supermercato quindi e ora c'è stessa differenza di anche 6 ti danno 6.000 euro meno rispetto a quanto vendono cioè 6.000 euro questo siamo d'accordo però il problema che io vedo dei Rolex che poi naturalmente uguale uguale anche per i Patek uguale però la differenza che c'è tra Rolex e Seiko no? per ritornare alla questione è che Seiko è presente in tutte le fasce di mercato bellissimo Rolex è lì presente in questa fascia medio alta che presto diventa su questo posso essere no posso essere d'accordo su questo cioè posso essere d'accordo con te nel senso che i listini continueranno aumentare e che Rolex sicuramente vorrà arrivare vorrà cioè essere nella fascia di Patek di Vacheron Constantin e di e di con la differenza che io mi pongo questa domanda ma come fai perché la produzione è talmente tanto più alta che arrivare a quella fascia lì è un po' una cosa che io non riesco a capire ma non riesco a capire proprio è una cosa illogica no? perché produce un milione e mezzo di pezzi cioè produci come ma forse ha l'intenzione di calarla può darsi ma allora che senso aumentare aumentare le fabbriche cioè probabilmente le fabbriche sono per il Tudor sì io sono convinto di sì perché Tudor oggi ha preso il posto di quella che era la Rolex vent'anni fa come io parlo di fascia di prezzo sì sono d'accordo e quindi allora aumenta però anche Tudor non è in tutte le fasce perché 200-400 euro non c'è c'è un Tudor parte da 2.500 euro in su il Tudor prende una fascia di un Rolex di 20 anni fa quindi si parla si va da 2.000 e qualcosa fino a 5.000 euro e forse più ma insomma è una fascia che Rolex vendeva 20 anni fa e il cliente che oggi non compra più Rolex perché appunto è fuori dal loro budget dal loro task compra Tudor che comunque io ora lo voglio dire è un omaggio di Rolex perché sta copiando i 5 cifre di Rolex a parte oh è la verità guardiamo cosa sta facendo con i Black Bay ha tirato fuori il 37 mm che è il primo Submarine tirò fuori il Big Crown che è il Submarine quello che hai alle ore 12 sulla ghiera o lunetta anzi lunetta quindi voglio dire sta copiando i Rolex vintage quindi è una strategia anche quella ma è una strategia tra virgolette per prendere quella fascia di clienti che compravano Rolex 20 anni fa e li comprano Tudor oggi perché Rolex è andata fuori da loro da loro diciamo da loro tasche alla fine cioè la cosa è anche fatta bene però è un omaggio di Rolex è un omaggio di Rolex se non lo voglio dire ma io l'ho sempre detto io l'unica cosa che l'unico orologio di Tudor ecco tra i Sub lo sapete il Pelagos tra l'altro Pelagos quello da 200 metri mi sembra anche bello mi sembra anche un po' più moderno è bello sì è bello come orologio però lo trovo un po' diciamo caratteristiche molto simili in realtà al 50 al 58 ma come caratteristiche sì però quell'altro ha quella cassa che praticamente è un po' come la chiamano ora sì la cassa è un po' differente è la cassa come la chiamano che anche il Bracca ce l'ha con quelli orologi di come Skin Diver come li chiamano Skin Diver cioè sarebbero fondamentalmente perché chiaramente il Submariner quando nacque era un c'aveva sì questa patente no? che poi della ghiera girevole ok su questo ci siamo sì infatti la problematica è tutto sì va bene va bene questo poi ok però fondamentalmente l'orologio era un orologio cioè veniva da una una cassa che è già esistente no? e quindi era una cassa molto semplice e con la corona esterna no? con la corona che non ha spallette no e quindi io non so se per Skin Diver intendano questo tipo di quello senza spallette intendi? quello senza spallette e quindi il 58 lì quel Black Bay riprende quel Primo Submariner a me non mi è mai piaciuto ti dico la verità questo Black Bay quindi sopporti ma sì ma tutti i Black Bay io non sopporto tutti i Black Bay sì io non sopporto nessuno dei Black Bay ma io perché secondo me sono anacronistici ok e non no cioè nel senso e non non io ma me fondamentalmente digerisco poco anche io digerisco poco anche proprio gli Skin Diver ecco in generale e poi digerisco poco addirittura anche cioè gli orologi che si rifanno ecco tutti questi ultimi no che si rifanno a questa tipologia di orologio che che non ha una ragione perché poi oltretutto ti limitano perché essendo una cioè essendo un disegno che riprende una cassa antica poi non puoi neanche realizzare un design del quadrante moderno più accattivante perché comunque se no non stanno insieme cioè quando si parla del Black Bay a un certo punto hanno rifatto quello che assomiglia allo Snowflake sì ma hanno potuto fare solo le sfere perché non potevano fare tutto come il Submariner tutto Submariner perché non incastra nulla con la cassa non gli sta non gli sta ritto poi io per l'amor del cielo io ho tutto tutto rispetto a chi vi piacciono questi skin diver per l'amor del cielo non c'è niente non c'è niente di mare uno io forse uno poi lo potrò anche comprare anch'io però il problema è la loro genericità cioè nel senso che sono tutti uno uguale a quell'altro ma io anche per quanto riguarda un Blampan cioè il Battiscape che è così molto semplice molto però sinceramente a me io lo trovo cioè uno compra un Blampan che costa 10.000 euro per avere un orologio che sinceramente dopo sono tutti uguali ma io secondo me il problema di Tudor se vogliamo parlare di Tudor sono io amavo i Tudor Rolex case Rolex cioè che avevano diciamo i erano Tudor by Rolex era l'omaggio alla fine era Rolex dei poveri si diceva no? perché alla fine quello era accessibile sì era però la cassa era fatta uguale c'era questo anche per esempio i Prince David di una volta erano aveva la cassa Rolex era la cassa di Dejust alla fine erano dicendo così dei poveri mi hai fatto venire in mente dei poveri un personaggio di qualche anno fa che faceva mi sembra il fratello di Linus il Ranzani no? che diceva eh Posh c'è Cayenne eh quello turbo no? diceva perché quello non turbo no? quello che non è turbo è da poveri cioè riviene un po' fuori questo personaggio ma chiaramente sono delle iperbole per dire eh sono orologi per chi diciamo così faceva più fatica no? anche a comprare insomma a cedere a determinate cifre ma oggi compra anche Tudor quello che dice io non vedo giusto che Rolex perché c'è anche chi esatto non vede giusto investire quei soldi lì non cioè diciamo così non capisce come mai Rolex sia andata a queste cifre oppure lo impaccia perché magari avrebbe anche facilità nell'andare anche la disponibilità di soldi ma ma avere un orologio che comunque vale quelle cifre lì non non gli da diciamo così quella tranquillità nell'andare che so io no? in tutti i posti che so io a Piareggio si può prendere un conseco da 200 euro come in questo caso io credo una cosa quando si parla di orologeria di lusso comunque si parla di una passione e la passione ti porta sempre a salire la vetta no? è come quello che dice io vado vado la montagna ok? e però la montagna faccio il tempo me lo puoi dire perché il tuo fratello è uno di quelli appassionati insomma io sto nel piano comunque va bene nel senso mi parlerai con il tuo fratello e dice sì io ho la passione la montagna e vado sulla vetta più alza è stato in Abruzzo sul gran paradiso no? quindi ho capito è molto limitante quindi è chiaro che secondo me l'orologeria anche lì dopo l'Abruzzo farai monte bianco e poi dopo magari ti sposti e farai chili mangiare e poi ti sposti e poi andrai potrai andare un po' nelle ande oppure magari in qualche monte russo piuttosto che qualche monte asiatico però se rimani fossilizzato all'orologio che ti impaccia è te dico la vetta la salire mai perché la passione è fatta anche di prendi un pezzo non mi garba più lo rodo via ne prendo un altro cioè perché se no la passione si limita a cosa? al fatto che ti impaccia solamente lo so però poi dopo quando l'hai venduto non ce l'hai più lo so però per arrivare a determinati obiettivi a volte bisogna arrivarci a piccoli passi sì però ora questo è vero no? quello che dici però è secondo me qualcosa che è stato vero soltanto negli ultimi anni per quanto riguarda Rolex che poi sai cioè casi come Rolex di gente che comprava l'orologio cioè questi Stefano cioè queste cose succedono soltanto quando aumentano i prezzi cioè io ho conosciuto per dire una persona che nei momenti nei momenti in cui parlo del 2004 quindi parlo di tanti anni fa cioè lui cambiava casa non dico tu hai spazi tutti gli anni cambiava casa perché? perché comprava una casa nuova che andava a stare e poi dopo faceva un mutuo e poi dopo la rivendeva la rivendeva più di quello che che era che che l'aveva pagata ne comprava un'altra cioè lo poteva fare perché le banche che gli davano soldi e lui cambiava 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 però è arrivato poi a un punto che che si è dovuto fermare è arrivato al 2004 2005 è rimasto è rimasto fermo perché perché i prezzi non andavano più su quindi quello che abbiamo visto cioè quello che è stato vero negli ultimi diciamo così 6-7 anni per olex io vi dico ragazzi è un'eccezione eh sì però quella vetta che ti hai scalato che è vero che l'hai fatto eh ma l'hai potuto far te perché hai beccato una situazione che era ascendente sì ma guarda che se no te li trovavi con nulla a mano ma ti faccio un esempio degli vc portoghese che ho che è un bellissimo orologio ma quanto c'hai in mano no 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 ma lì è uguale è praticamente uguale a olex ah non ci ho mai avuto niente perché non è mai stato un orologio da investimento è stato un orologio perché è bellissimo appunto chi è che discute la bellezza di un portoghese nessuno uno che gli piace l'orologio tradizionale il portoghese è fiore all'occhiello eleganza sportività tutto no? perché poi va preso in mano e provato se io quello volessi dare indietro il mio ha un una rivendibilità di quattro e mezzo cinque mila euro ma se voglio comprare quello nuovo quanto costa? automatico non rattrappante nove e due di listino che sconto mi fanno oggi i vc? poco duecento euro trecento eh lo pago ottenue novemila euro eh però io per andare a comprare un automatico quindi è vero che il movimento in house ma comunque sia il progetto di quello vecchio modificato con la ruota a colonna insomma è un pastrocchio di 7750 andiamoci chiaro dai è un pastrocchio è un è un movimento è un movimento è un movimento in house che però diciamo ha preso come le house dal banjo 7050 con la ruota a colonna ma sai il problema del discorso 7750 è che l'orologio per non stravolgerlo doveva avere i quadranti lì eh no no certo certo e quindi è chiaro che qualche cosa simile ci sarà perché o lo stravolgevi sì però ma non era più ma non era più il portoghese però quello che mi dici mi dici te che Rolex ha fatto quel lavoro lì in realtà l'ha fatta anche l'IVC l'ha fatta anche Longin cioè se te vuoi oggi io dico oggi in questo istante hai i tuoi orologi comprati all'inizio del 2000 e li vuoi convertire andando a comprare orologi nuovi devi fare il doppio garantito cioè quello che ti danno di tasca ci devi mettere il doppio ma di qualsiasi orologio no ma io sono d'accordo ma te hai comprato Rolex e hai rivenduto a di più per scalare la vetta cioè te hai sempre quasi guadagnato sì vabbè te per dire ne hai comprati due ne hai venduti due ne hai comprato uno meglio cioè è sempre ipoteticamente venduto come si dice qui in Toscana due gatti quel compra un cane ma te ti hanno dato il prezzo se non quello che hai pagato addirittura addirittura l'hai incrementato ma sui vc te hai perso sì 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 te cioè perché te devi dire no ma io in quel momento lì l'ho pagato 3.000 euro sì ma il valore di quei 3.000 euro lì non era mica questi qui è vero perché poi e noi non ce lo ricordiamo ma dopo cioè i prezzi cambiano di molto eh certo non è più il tempo che si andava a comprare gelato con mille lire e si e si portava via il gelato ora ci vanno due euro per prendere quel gelatino lì due euro ma devono uscirci da quella cosa lì perché se vogliono fare se vuol visto che cioè non è che quei biologici li vendi uno l'ora no? e il discorso è questo queste case qui per fare dei numeri devono aumentare i listini se no i conti non li tornano eh parliamoci chiaro o fa una produzione come seco di 20 milioni di pezzi perché quella è 15-20 milioni allora lì vai su un'altra strada o se fa una produzione di non so quanti pezzi di vc quanto farà un milione di pezzi 700 mila pezzi uno so quanti bisogna che tu aumenti i listini perché di vc non è che ne vendano un penso che ne vendano nell'anno tonnellate ecco sì quest'anno è andato bene magari per tre anni li va male o li va meno bene perché sono marchi che non hanno diciamo il blasone che ha Rolex che prende diciamo un pubblico più ampio ma per tanti motivi eh una delle tante ragioni se guardi se te vai su un qualsiasi banale sito di orologeria oggi hai visto cosa hanno cominciato a fare cosa che non succedeva precedentemente tutti qualsiasi orologio ci abbinano tutti gli orologi che vuoi e tutti i cinturini che vuoi gomma pelle coccodrillo vitello gallina ma che fa il cinturino con le zappi di gallina cioè nel senso hanno visto che facendo questa cosa qui riesco un attimino a rendere più versati l'orologio una volta era molto più l'orologio erano andati ma cinturino ma con questo invece Rolex azienda molto furba a parte si fa sponsorizzare i radi talenti dello sport quindi lì prendi già punti e vendite però col bracciale d'acciaio Oyster ha sempre avuto un passo più avanti gli altri un EVC portoghese può essere bello ma montando un coccodrillo nero a chi lo metti io un orologio ti vincola lo porti due volte l'anno tre volte l'anno è lì la vera sì ma io sono d'accordo ma a Daytona non è la stessa cosa quante volte lo porti ma io personalmente perché sono uno che è più possesso per me che il fatto del delle per me non lo vuole dire in diretta per me è più diciamo è più è più tra virgolette un oggetto fallico che altro parliamoci chiaro nel senso sai che sai che ce l'hai però non è che mi interessa portarlo ma io sono fatto sono un po' come Giorgione questo qui non so se questo qui Giorgione questo qui del canale per me è famoso se lo conoscete tutti di Instagram lui è un grande collezionista di Milano ha tantissimi orologi però ne porta ne porta col contagocce cioè ne ha tanti in cassetta quindi non è che chi ha tanti orologi è uno che li porta anche tanto quello un appassionato non è detto che li porti anche ognuno poi la passione la sfrutta e la usa proprio a cemento no? io la vedo così quello sì ma questo assolutamente però per esempio io la mia visione è invece quella di sfruttarli cioè capito di usarli e anzi io addirittura vengo meno a piuttosto all'originalità quanto per esempio ti faccio un esempio di un acquisto che ho fatto recentemente questo qui è un 6139 che ho acquistato però poi naturalmente ve ne parlerò sì e questo qui è un orologio che praticamente ha quasi tutto aftermarket dal quadrante al bracciale vetro sfere ha quasi tutto quasi tutto aftermarket quindi un orologio che fondamentalmente vale quello che vale però di contro che c'è è un orologio che che puoi che puoi indossare quindi questo praticamente che sarebbe questo è un crono un 6139 tra cui di cui praticamente ce l'ho anche blu ma ce l'ho anche c'è anche un'altra versione che di cui vi parlerò questa è una versione particolare che ho preso in Giappone sempre poi ne parleremo e questo è è uno di quelli che potrebbe essere stato il primo automatico no? uno di quelli che potrebbe essere insieme stato insieme alle primere dicevo vai insieme a Pog ce l'hai sempre allora questo qui è il Pog che io chiamo Pog li chiamo tutti Pog sì va bene poi il Pog sarebbe quello questo qui questo arancione se fosse diciamo originale ma va detto che il Pog originale c'ha delle componenti che sono aftermarket anche quelle quelle proprio del di Pog del colonnello e per cui questo cioè questa è un po' questa è un po' la mia interpretazione ecco diciamo dell'orologeria cioè a me mi piacciono orologi che si possono indossare e che si possano diciamo così girare che si possono senza e questo è il motivo per cui per esempio io non ho Rolex ma per esempio e così perché te dici ma e così il no il portoghese portoghese è sicuramente un orologio elegante che si si abbina naturalmente a un bestiario più più classico però esiste e così c'ha anche la versione c'ha la serie pilot per esempio il mio c'ha bracciale metallo e lo usi cioè diciamo io ho visto il mio come è sfruttato sì sì quindi per me e la diciamo così e non vuole essere un insegnamento per nessuno perché poi tra l'altro cioè se ascoltassimo ecco diciamo così quello che diceva Pasolini saremmo allora sarei io stesso criticabile nel senso perché poi alla fine non so neanche quanto questo possa essere gestibile però su larga scala però quello che a me interessa è diciamo così il percorso e la possibilità di comprare sul suo orologio perché se io oggi prendessi tutto e comprasse un Daytona sì bene ho comprato un Daytona ma poi che faccio un mese dopo? nulla cioè sto lì e lo guardo se mi va bene se mi va bene lo indosso però cioè capito non è prima di riaccedere a un orologio di quella di quel livello lì per me passano altri 40 anni e là a quel punto lì è più facile sia morto che sia vivo certo certo quindi un po' è questo diciamo così la mia la mia impostazione giustamente però il collezionismo è fatto di tante persone no? certo certo ma siamo qui a discutere alla fine però anche uno come te che per esempio quando alla fine indosso un orologio prende un orologio per rindossarlo e alla fine c'è un secco sì in realtà sì però bisogna ora fare un ragionamento a 360 gradi è l'unico è l'ultimo che farò perché sicuramente comincia a essere stacco di puntare se ne potrebbe fare tante tanto io ho dei cronografi cronografi un po' tutti particolari se vuoi nella mia collezione io ho preso quella direzione lì e quella è stata sin dall'inizio piano piano ho scelto quella strada lì il cronografo secondo me non è l'orologio che si indossa quotidianamente cioè quotidianamente si indossa per me un classico raminutico che può essere un Dejust può essere un Diver Diver per la maggiore il cronografo più un orologio da ricambio quello che magari arrivi in fondo alla settimana per uno che lavora si cambia si esce la sera ti metti il crono è qualcosa di nicchia se tu guardi anche nei cataloghi anche degli orologi il crono cioè di Diver ce n'è 4-5 minimo scelte di crono una barra due se si guarda nello standard dei cataloghi no? quindi io ho fatto quella scelta lì appunto anche perché al di là che mi riempie più l'occhio quando guardo il quadrante quella è una caratteristica che a me piace però a tanti magari non gli interessa però alla fine è chiaro che se devo portare un orologio porto un un Diver da tutti i giorni ma in questo momento per esempio sto portando senza senza vergogna il il Seco Tartor che io mi trovo benissimo è un orologio che lo sai avrei ripreso prima di questo qui purtroppo te lo puoi dire che non la producano più sì quella questa è diciamo una cosa uno scoop ecco che poi insomma ora non vorrei creare allarmismi però insomma io poi dedicherò anche un video ad hoc anzi sarà credo il prossimo però la verità è che i Tartor non si trovano più cioè in Giappone cioè quindi non li producono più il Giappone è il campanello d'allarme è una notizia grossa è questa qua è una notizia grossa però questo non vuol dire che non questo non vuol dire che venga cessata domani la produzione dei Tartor a livello internazionale cioè allora per capirci il Tartor non è un orologio che viene prodotto in Giappone è un orologio che viene prodotto nelle succursali no? in Malesia o in Cina o in quel posto lì e quello che mi ha portato è giapponese quello che ti ho portato io è destinato al mercato giapponese quindi che è diverso dall'essere prodotto in Giappone questi sono prodotti in Giappone non penso cioè nel senso sono orologi che sono stati prodotti fuori ma che erano destinati al mercato giapponese anche perché cambia anche la referenza io ho preso cambia la referenza cambia la referenza la referenza è diversa da quello che è sul mercato italiano sì non credo che sia solo per il discorso del kanji no no se noi guardiamo il mio Tartor ha la solita referenza di quelli con l'altro datario ma anche il quadrante è diverso qui c'è scritto Made in Japan c'è scritto ora sì ma col Tartor no il Tartor no il Tartor era Made in Japan e anche gli altri erano Made in Japan questo sì 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 non tutti sì sì non tutti perché per esempio questo qua vedi per esempio questo qui però te ne prendi l'ultimo ti prendo l'ultimo ti prendo l'ultimo poi per questo magari è meglio sentire Manu e Maggio e questo non è Made in Japan questo è Made in Japan esatto bravo e c'è il quadrante però è destinato al nostro al nostro mercato esatto e questo però Stefano te mi confermi che non è in kanji questo qui e non è in kanji e quindi è quello che ti dicevo io questo che io ce l'ho uguale ma col datarion kanji ha la sua è Made in Japan è Made in Japan è Made in Japan questo qui non ce l'ha questo non ce l'ha quindi questi qui due erano Made in Japan e questo qua no quindi cioè una diciamo che sono destinati a mercati che erano insomma insomma comunque quello che quello che cambia quello che è importante dire è che la strategia di Seiko quello che appare insomma agli occhi è che inizialmente fanno una un orologio per il mercato giapponese vedano come va e ci sono tanti tanti casi per esempio del 6309 c'è il 6306 che all'epoca veniva fatto che è uscito qualche mese prima è andato sul mercato giapponese sul mercato giapponese ma tutti gli orologi anche gli speed timer cioè questi qua il 6139 sono usciti prima sul mercato giapponese tutti gli orologi in generale sono usciti prima sul mercato giapponese secondo me è anche un po' un test che fanno sì 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 di bontà del prodotto per poi hai capito continuare dopo un pochino esce di produzione e poi dopo continua la produzione nel resto del mondo e anche le prendano in e anche le utilizzano poi dopo le reimportano praticamente o le importano anche in Giappone per il mercato giapponese però quello che è apparso è che il tartole proprio in Giappone non si trova più neanche quello neanche quello destinato diciamo agli altri mercati ecco il tartole è sparito per trovarlo bisogna andare in qualche negozio più piccolo che lo reimporta cioè che lo compra magari in Thailandia per dire ecco è una cosa un po' strana quella cosa è ma secondo me non è tanto strana perché perché altrimenti il tartole sarebbe stato secondo me un doppione cioè praticamente questo al momento è il il tartole quindi questa è la cassa tartole originale e non è più questa qui cioè quindi in Giappone quella lì è la cassa prima del tartole questa è la cassa Villard diciamo quella che aveva si il il colonnello Villard capitano Villard si però come potete vedere qua insomma dai praticamente dai listini il tartole è uscito il tartole è quello che conosciamo noi è vero classico è uscito dal questo naturalmente questo è un questo è un listino della del del 2023 quindi è un listino aggiornatissimo aggiornatissimo vedi ci avete ci sono i vostri ci sono i vostri orologi quindi questi questi ci sono però il tartole è sparito quindi mi piace mi piace l'effetto che dà il vetro al quadrante questo è più rifinito il vetro zaffiro si a parte sono belle anche le sfere a parte era il vetro zaffiro anche dell'ultimo un tartole King però era cioè un tartole un vetro più meno lavorato ecco era più lavorato il quadrante se vogliamo si questo qui è un po' più quello un po' più semplice però questo qui è una versione insomma particolare che è uscita poi alla fine abbiamo fatto una bella affarinata si abbiamo fatto una bella chiacchierata decisamente naturalmente poi si si continuerà perché sono sono veramente tanti gli argomenti di cui c'è da parlare come ultima acquisizione appunto abbiamo King Seiko che ho preso in Giappone il fondello che c'è molto bello è una serie limitata questa questa è una serie si è una serie limitata con il movimento 6L e questo è bello questo è te lo sanno è il tuo questo è il tuo ah si molto bello questo è bello è vero cioè i quadrati poi questo qui c'ha un movimento che è un movimento 6L cioè non è un derivato del 6S 26 ecco 4R 36 comunque si vede che insomma quindi anche un pochino più sottile e anche nei cinturini insomma stavolta ci hanno messo dei cinturini di qualità come le chiamano quelle alze lì? ma è il discorso della cioè hanno ripreso le vecchie i vecchi disegni i vecchi disegni i vecchi disegni del King Seiko sai che mi viene in mente quelle alze lì? le lame delle delle catane sembra strano eh del catana scusa il catana perché il catana? è maschile sì è maschile non devi dire la catana ma il catana il catana? sì ma oggi diciamo così qualche tempo fa cioè 4-5 anni fa con le cifre con queste cifre qui che viene oggi King Seiko ci prendevi un Gran Seiko ma oggi i prezzi di Gran Seiko sono aumentati e quindi comunque è davvero bello porca miseria sì poi c'è un movimento suono cioè qualcosa di diverso mentre invece la versione quella più piccolina che poi è anche più vicina all'originale perché non aveva la data quello lì quello lì c'ha il movimento 6R del 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 che poi c'ha 72 ore di riserva di carica poi c'è un movimento un ottimo movimento però è un derivato del dei dei Seiko 5 ecco e poi ecco poi anche per buttarla lì per dire quanta quanta carne c'è al fuoco mi è arrivato anche questo guarda questo qui è il primo Seiko 5 primo Seiko 5 prodotto quindi anni? ecco siamo negli anni sessanta questo l'ho trovato questo l'ho trovato in Giappone è abbastanza considera che la cassa quella lì è cromata ma perché lo fai cromare? il quadrante è bello ma sei sicuro? il quadrante è bello è originale? si si sicuro? si si molto molto bello si l'ho fatto vedere ma la cassa lì non so 80 euro si si ma poi prima c'ho da smontarlo si si quello ti ce lo mando io si ma stai scherzando? te l'hai visto? te non l'hai visto? ti faccio il girare il prego poi ti ho mandato quello che ho trovato del mio bisnonno no? ti faccio vedere quello che è venuto fuori tu lascialo ma andiamo no? se lo vuoi fare no ma sai perché te lo dico perché cosa ti ho chiesto? vedendo il quadrante se è originale ti dico falla cromare il quadrante è bello pare un orologio nuovo dopo guarda infatti l'ho preso perché il quadrante è bello almeno che l'abbiano smontato da qualche parte mi sembra strano che non sia un istampo no ma anche perché c'è un non varrebbe neanche la pena cioè questi sono orologi che sono usciti in tantissimi pezzi eh si si questo aricomare viene è nuovo si si cosa facciamo? non mi meriterebbe potresti cambiare anche il vetro ma il vetro che cosa ha? è graffiato forse ce la fa ricordato però se il vetro fosse originale come dovrebbe lasciare quello lì quindi sempre il cattivo giudicato comunque ci 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 pensiamo ok a questo punto che facciamo? salutiamo i nostri amici si salutiamo e anzi grazie grazie alessio e rossano per essere venuti grazie a te insomma intanto la chiacchierata va sempre fatta e ci vediamo e ci vediamo alla prossima puntata come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un like e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima ciao a tutti grazie a tutti